E' ricoverato in condizioni serie all'ospedale Sant'Elia un giovane di 26 anni di Casteltermini che, nel corso di una lite con la fidanzata, ha riportato una ferita gravissima al braccio destro. Secondo una prima ricostruzione, il giovane ha sferrato un pugno contro una vetrina che si è frantumata tranciandogli quasi di netto il braccio destro. Il tutto è successo nel corso della tradizionale sagra del Taratatà. I soccorsi sono arrivati prontamente, il giovane è stato trasferito prima all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e poi in elicottero al Sant'Elia di Caltanissetta.